Dio santo! Lì non capiranno come parliamo. Se loro non ti capiscono, allora non ascoltano. Tu lo sai chi sei, vero? Sei il Buddy di Belfast. Qui ti conoscono tutti. Ehi, Buddy! Tua madre ti chiama! Sì! Vogliamo ripulire un po' la comunità. Non vorrai essere l'unico diverso della nostra strada. Tocca la mia famiglia e ti uccido. Noi dobbiamo andare via da Belfast. Combatteremo insieme. È l'ora. L'ora di cosa? L'ora della guerra. Viviamo in una guerra civile. Tu che cosa vuoi? Voglio con me la mia famiglia. Voglio te. I ragazzi della loro età vengono uccisi dietro l'angolo. Possiamo dare ai ragazzi una possibilità migliore. Io non conosco nient'altro che Belfast. Va adesso. Non ti voltare. Buongiorno, Belfast! Il cibo al mondo! Buongiorno, Belfast! Buongiorno, Belfast! Poongiorno! Grazie a tutti